Il rimorchio di un mezzo pesante carico di tronchi si è ribaltato questa mattina a mercoledì 14 giugno, poco dopo le 9. Il rimorchio è accaduto sulla strada provinciale 41 tra Lusiglie e Feletto. Il rimorchio si è rovesciato giù per la piccola scarpata che costeggia la strada. Secondo racconto del conducente dell'auto articolato di un'azienda valdostana rimasto illeso, l'incidente è avvenuto perché nell'incrociare un altro mezzo pesante, che non si è fermato per stare aiuto, le ruote del rimorchio sono finite sul tratto di erba e fango instabile, facendolo precipitare. Un altro mezzo pesante con gru giunto sul posto ha recuperato i tronchi di legna e ha aiutato l'auto articolato a tirare sul rimorchio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivarolo e gli agenti di polizia locale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti